Vittoria in trasferta per la New Basket Agropoli che ieri sera ha battuto nell'overtime a Angri per 81-76. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per i Delfini che salgono così a 10 punti. La compagine di Coach Lepre ha iniziato a comandare fin dal primo quarto lasciando un margine di 10 punti sull'avversario guadagnando terreno tra secondo e terzo quarto arrivando poi alla perfetta parità al termine dei tempi regolamentari. Nell'overtime la battaglia è andata avanti con i cilentani che sono stati più cinici e fisici riuscendo a conquistare i due punti. Questo è il commento di Coach Franco Lepre. Abbiamo portato a casa i due punti e questo è importante per dare continuità al buon lavoro fatto con Salerno. È stata una gara molto fisica, ci aspettavamo un'Angri diversa dall'andata e così è stato. Noi abbiamo avuto all'ultimo momento due tegole, l'assenza di Marco Di Mauro e Pekic non al meglio, ma siamo stati bravi a sopperire a queste due situazioni. Anche nell'overtime abbiamo saputo reagire. È stata una grande prova di maturità e di carattere su un campo difficile e sotto questo aspetto sono molto contento. Ora testa a Rende. Domenica saremo di scena contro il Rende in trasferta in Calabria, squadra a cui piace lavorare in campo aperto. In questi scontri così ravvicinati dobbiamo recuperare le energie e lavorare sulla parte atletica. Ci tocca gestire la situazione infortuni e quella del recupero fisico e mentale dei ragazzi. Dobbiamo conquistare i due punti. Ora siamo secondi ma vincere significherebbe metterci in una posizione comoda per l'eventuale fase a orologio, in virtù anche del fatto che è cambiata la formula e a sfidarsi per la promozione diretta in Serie B saranno le prime due classificate dei gironi A e B.